Musica Bentornati a TG2 Costume e Società Fantasiosi, colorati e non impegnativi I gioielli dell'estate 2016 sono fatti per una donna che non vuole passare inosservata Maria Teresa Fabris Fatti di pietre preziose o di plexiglass, geometrici o legate alle forme della natura L'importante è che siano pezzi unici ed originali Nati dalla passione e dall'esperienza di artigiani Fiora all'occhiello del Made in Italy Ci sono gioielli fiaba, come questo anello che racconta una vera e propria storia romantica Una coppia di fidanzati seduti a un giardino fiorito Con un bel granato verde che simboleggia l'erba e che guardano una lanterna Non mancano ragni di quarzo che cercano di afferrare mosche di granato Preziosi gufi portafortuna, brillanti scorpioni diventati spille Abbiamo due collezioni, una ispirata al passato, alla storia E un'altra a creazioni estemporanee in base anche a pietre che riusciamo a trovare in giro per il mondo Ma come le viene l'ispirazione? Eh, non lo so Viene da una grande curiosità per la vita La classica perla, anziché con l'oro, si sposa all'ebano Per gioielli del design innovativo che piacciono a mamme e anche alle figlie L'ebano è un legno che viene dall'Africa E ha la particolarità di essere molto utile, duro Uno dei pochissimi legni che affonda E quindi durevole nel tempo Le perle vengono dalla Cina E sono di ottima qualità Anche il cameo si fa giovane e moderno Trasformandosi in pendenti fioriti O in anelli finemente cesellati Un gioiello molto antico È lavorato a mano su conchiglia Noi abbiamo cercato di renderlo un po' più giovane e moderno Questo è un gioiello che può essere anche indossato da un uomo? Certamente Il cameo fino a poco tempo fa non veniva indossato dall'uomo Invece oggi con la fantasia riusciamo a fare quello che vogliamo Andando a ritroso nel tempo Ecco le creazioni ispirate ai monigli degli antichi romani Realizzate con la stessa tecnica dell'epoca di Cristo Impasta di vetro declinata in mille sfumature Che donna indossa questo gioiello? Ma è sempre una donna che cerca un prodotto di nicchia Non è una donna che vuole il gioiellino cinese Vuole il Made in Italy Colorate divertenti Le collane fatte con reti di rame galvanizzate in oro E tempestate di pietre dure La novità dei gioiello di quest'anno È la lavorazione sempre con la rete Però gestita intrecciata Sia con questo sistema con il filo dentro inserito Sia con questo sistema di rete lavorata sempre intrecciata Le pietre sono pietre dure Calcedonio, frenite, ambra, sodalite Il prezzo di una collana come questa è sulle 150-160 Alla fiera Sabo di Roma non mancano gli spunti per gli accessori Molto romantiche, chic, le borsette esclusive realizzate tutte a mano Sono dei nostri maestri artigiani Le facciamo tutti a caserta Che tessuti hanno? È pizzo, chiffon e poi hanno dei fiori particolari che andiamo alla ricerca di fiori diciamo fuori dal comune Che tipo di donna indossa le sue borsette? È la donna chic Donna chic, la donna metropolitana La donna che vuole cercare sempre qualcosa di particolare, qualcosa di nuovo E tra tanti gioielli anche le scarpe devono brillare Si vuole essere belle ma con una certa personalità Per cui i gioielli e le scarpe sono due cose molto rappresentative Con tanti accessori colorati e luminosi non ci resta che sognare l'estate Per venire da lontano il mio bello rio rio